Nuovo terremoto giudiziario alla Messina Ambiente, 100.000 euro di tangenti per due funzionari della società di nettezza urbana e tre imprenditori. Finiscono agli arresti domiciliari l'ex amministratore unico di Messina Ambiente, nonché il liquidatore Armando Di Maria, il funzionario contabile della società Antonino Inferrera, colui che avrebbe combinato gli appalti con gli imprenditori amici, il broker assicurativo Antonino Buttino che avrebbe intascato più di 350.000 euro per nominare l'associazione deputata agli autocompattatori, i titolari di altre due aziende, Francesco Gentiluomo e Marcello De Vincenzo. È un fenomeno che mostra uno spaccato inquietante sul malgoverno della città dello stretto, a dirlo il procuratore di Messina, Guido Loforte, che ha convocato d'urgenza una conferenza stampa questa mattina. L'indagine è iniziata qualche tempo fa, spiega Loforte. L'input è arrivato dal sindaco Renato Accorinti che ha consegnato alla procura un cospicuo incartamento sulla precedente gestione della società partecipata. Secondo questi documenti, il management del servizio di raccolta rifiuti presenta numerosi lati oscuri. L'indagine è stata condotta dal nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale e dalla sezione di polizia giudiziaria presso la procura. Sono scattate le ordinanze di custodia cautelare per le cinque persone, tra dirigenti della società e imprenditori. Ad emettere il provvedimento è stato il GIP su richiesta del procuratore aggiunto Sebastiano Ardita. La società messa in ambiente sarebbe fallita per bancarotta. Dunque si sono verificati episodi di vera e propria corruzione, contratti pubblici stipulati illegittimamente, contrattative e private nell'affidamento di servizi. L'affer più cospicuo è quello dell'Associazione dei mezzi di messi in ambiente che ha persino provveduto all'assunzione di dipendenti illecitamente altro a non effettuare alcuna gara evidenza pubblica. Opera di spoliazione comunale, truffa accumulata, dice Loforte. Il broker assicurativo Buttino dal 2011 al 2014, in particolare anche lui ai domiciliari, avrebbe incassato oltre 350 mila euro erogando una tangente di oltre 50 mila euro. Ai domiciliari anche i titolari di altre due aziende, Francesco Gentiluomo e Marcello De Vincenzo, che avrebbero ugualmente versato mazzette per ricavare senza gara i servizi di riparazione dei mezzi di messi in ambiente. Soldi pubblici versati su conti correnti di società fittizie.